Nascoste dietro una fitta vegetazione in un terreno a lato dell'Ostiglia, non lontano dalla stazione ferroviaria di Campo San Piero. Cinque bici trovate lo scorso fine settimana da parte degli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, risultate poi rubate. Gli uomini della polizia locale erano stati allertati dagli operai che stavano facendo manutenzione alla ciclovia e avevano notato la presenza di rifiuti nell'area. Gli agenti hanno trovato prima un bivacco poi le cinque mountain bike tutte di valore. Le bici, per un valore di quasi 5.000 euro, risultavano rubate da alcuni garage la notte prima del ritrovamento tra venerdì e sabato. Le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari.